Anche Dante l'aveva definito archian rupestro proprio perché quando piove il suo carattere torrentizio si fa sentire e le sue acque diventano forti ed impetuose. Tanto da mettere in difficoltà e scardinare un'opera idraulica, queste gabbionate alle mie spalle che erano state fortemente ammalorate appunto dalla forza dell'acqua. Noi con un intervento di manutenzione ordinaria le abbiamo ripristinate e riportate alla propria efficienza. Erano state le piane dello scorso inverno a causare il crollo di un'opera idraulica. Adesso i lavori di ripristino della difesa di sponda dell'Archiano nel comune di Bibiena sono stati completati grazie all'alleanza tra comune e consorzio di bonifica 2 Altovaldarno. E' stata effettuata la ricostruzione di gabbioni aventi funzione di difesa spondale costituiti da 5 ordini i quali erano crollati a seguito di eventi meteo dello scorso anno. La situazione poi si era particolarmente aggravata dopo l'evento di piena del 16 dicembre al punto tale che il consorzio aveva dovuto riprogrammare un intervento molto più corposo per la ricostruzione più impattante, più importante dell'opera che nell'ultimo periodo tra l'altro rischiava di ostruire il deflusso attraverso il ponte qui della località Camprena. Unitamente a questo intervento di ricostruzione qui alle mie spalle grazie alla convenzione che è stata siglata con il comune è stata ricostruita anche la sponda opposta dove insiste la ciclopista dell'Archiano con l'inserimento di massi ciclopici che hanno permesso la stabilizzazione della sponda la ricostruzione della pista. Siamo davvero molto contenti di questo lavoro molto importante che va a ripristinare e a consolidare una situazione che era diventata rischiosa per tutti davvero un bel esempio di collaborazione che ci aspettiamo possa continuare anche nei prossimi anni e essere da esempio anche per altre amministrazioni.